Ciao ragazzacci, io sono Amito125 e oggi siamo qui su Farming Simuleto17 sulla mappa Valfarmer Allora, come vedete qui c'è un pezzettino di... un pochettino è rimasto E quindi ce lo raccogliamo noi, ce lo raccogliamo Ho aggiornato il courseplay pure, però diciamo che non è che mi metto a fare il percorso per sto pezzettino Ma lo raccolgo da solo, anche perché non raccolgo mai niente, non raccolgo Faccio fare tutto il courseplay e cioè che cos'è? Non si fa mai niente, non si fa Allora, sto leggendo lì in alto che le pecore hanno bisogno di un po' di erbetta, va bene Le pecore diciamo che in queste mappe tecniche forse gli animali sono una cosa un po' sprecata Perché sì è vero, per fare una cosa completa ci vuole... cioè è meglio avere tutto quanto Però diciamo che gli animali forse forse in queste mappe tecniche sono un po' di troppo diciamo Infatti sono un po' propenso a vendere le pecore, a continuare a fare cose varie in questa mappa Perché comunque le cose da fare in questa mappa ci sono Volevo oggi, oggi volevo andare a prendere Volevo farvi vedere, grazie a Terence che mi ha fatto vedere dov'è lo schermino C'è lo schermino della fabbrica di olio di girasoli È nascosto, però lo schermino c'è In pratica c'è il trigger dello schermino, ma lo schermino non è esterno, è interno in pratica Però ve lo faccio vedere Fatemi solo finire di raccogliere questo po' di mais Così lo andiamo a scaricare perché è importante scaricarlo Inoltre vorrei andare... se riesco quasi quasi ci vado Vorrei andare... dov'è caspita l'ho lasciato... il Clark Allora mi avete detto il Clark di metterlo Visto che comunque è un... come si chiama? È un... è un caricatore È tipo il JCB, quindi lo metto dentro il JCB Allora qui voglio andare a vedere un attimo una cosa Io ne ho pallet... allora qui cos'è che si produce? Non ci gioco da tanto, ho avuto quel problema lì col computer Non ci gioco da tipo 30 anni Allora, board pallets e pallets A me servono i pallets I pallets chi è che mi sputa fuori? Tu mi sputi pallets per caso? Lui mi sputa wood chip e board pallets Ok, che non sono veramente interessato Tu cos'è che mi sputi fuori? Tu mi sputi fuori i pallets Allora, questo pallet qui lo dobbiamo portare... Lo dobbiamo portare... ok, a casa Inoltre qua il fuel... devo trovare un sistema per il fuel Va bene, va bene Allora, chiudiamo questo Io quasi quasi... sapete che faccio? Uso il teletrasporto con questo... con questo pallet qui Fatemi abbassare un po' il volume, sennò impazzisco Sennò quando dovete registrare tanto il volume tenetelo basso Perché sennò impazzite veramente male Allora, mi avete consigliato di tenere le forche un po' più larghe Però un po' più larghe è un parolone Allora sapete che faccio? Lo vado a prendere anche se non è pienissimo Lo so, non è pienissimo Ma vabbè, ce lo facciamo piacere Anche perché ci serve questo pallet Ci serve tantissimo, ci serve Ci serve questo pallet con la teleport, con il TARDIS Se noi premiamo così, poi premiamo F11 Gli diciamo che vogliamo andare Dov'è che vogliamo andare? Ma lo sono dimenticato Ah, qui Teletrasportiamoci qua E il pallet? Scusi? Mi scusi? E il pallet dov'è che me l'ha lasciato? Mi perdoni? E che cos'è? Ok, ti pareva che non mi facevo teletrasportare male Mettimi qua Ok Ah, il pallet l'hai lasciato qui Bene, mi fa molto piacere questa cosa Come dire? Salve Buongiorno Mi ha fatto prendere il pallet Ma il pallet non lo posso mettere da nessuna parte Va bene Va bene Allora, il pallet abbiamo scoperto che non si teleteletrasporta Mamma mia, come sto parlando? Non si teletrasporta E vabbè E il pallet è così Lo sappiamo Il pallet ci rompe un po' i pallet in campo Diciamo E va bene E va bene Quindi noi lo prendiamo più o meno così Senza fare troppi danni Peraltro di questa mappa è uscita la versione nuova Lo so Però non si può aggiornare ragazzi Se mi metto ad aggiornare È un po' un problema Allora Dammi il camion Il main TGS Eccolo È collegato Te teletrasportiamo questo Voi direte Ma sì, ma solo per un pezzettino Fai tutto sto casino E lo so ragazzi Ma mi serve quel pezzettino Quel pezzettino è un pezzettino importante per me Allora Chiudiamo qui Do sta i pallets? Ok Il pallet è qui Perfetto Perfetto Quindi tu fammi un piacere Scaricami il pallet qui sopra Anzi Lo lascio qui E chi se ne frega Visto che riesco a fare col teletrasporto Più o meno bene la cosa Quindi Lascia questo qui Fammi salire F1 con la X Allod center No Allod va bene Fai X Work position Perché non funziona Work position Sapete che non so come Com'è possibile che Non è che si sente carico lui in qualche modo Perché qua Work position Ok l'ha preso L'ha preso un po' Non ho capito come è fatto a prenderlo così male Però va bene Va bene Quindi lascia il work position Ah caspita Allora faccio Allod center Come si faceva per scaricare con la Y Credo Ok E me lo carico così Vediamo cosa mi succede Durante il teletrasporto Come voi sapete Con le mod è sempre un po' un problema Fare tutto quanto Però Scusi Allora Dove è andato a finire il pallet Ragazzi Non lo so se il pallet c'è O non c'è Ma io Nel dubbio Cioè perché Come dire Il pallet qui non c'è Cioè è possibile che non ci sia il pallet Non c'è il pallet ragazzi Ma è possibile che questo pallet Me lo devo trasportare Cioè esci di qua Andiamo Andiamo di nuovo sul Clark E il pallet è sempre qui Il pallet non si autotretrasporta Forse perché è scarso Quindi perché non è pieno Non me lo fate retrasportare Va bene Quindi lasciamo stare sta cosa Ridammi il camion Oggettivamente No Contro shift tab Ok Sgancia questo qui Lasciamo il tab Ci pensiamo sta cosa qui Ok Andiamo a prendere i girasoli Perché i girasoli mi servono un sacco Peraltro Dove ho lasciato il mio Il mio carrellino Il carrellino che uso sempre Ne ho uno No Questo qui non è quello che mi interessa Questo Questo è sul campo 18 Ok Andiamo sul campo 18 Diciamo che sta cosa qui Di dover Prima premere 9 Poi richiudere 9 Mi stressa tantissimo Però Oh così E così ce la dobbiamo tenere Va bene Allora qua cos'è che c'è da qui dentro Qua dentro c'è il nulla più totale Wow Che bello Che bello Ok Mettiamo velocità 5 Perché se no è troppo lenta La trebbia Do stava Do stava la trebbia Ragazzi Sul 53 c'è la trebbia Ok Quindi premiamo 9 Premiamo f11 Ce andiamo sul 53 Un po' un casino Fa sta cosa Mamma mia Mamma mia però Cioè io a dire la verità Preferivo l'altra Questa è molto più stabile Rispetto all'altra teleport Ma mamma mia però Che stress Cioè fate un pulsante Premo f11 Mi apri la mappa direttamente tu Mi fai cliccare No che mi fai esaurire Cioè sarebbe molto più comodo E basta Non entra sempre nel camion Ok Scarichiamogli questi Adesso farà un po' di problemi No no Non è vero Nessun problema Ok Scarica tutti i girasoli Ok perfetto Io ora non so come fare A trasportare quel pallet È un mezzo pallettino Peraltro Quindi Boh Non lo so Non lo so Peraltro sapete che devo fare Andiamo un attimo lì sul Clark Che voglio scendere Voglio andare a vedere qui Come è messo Tu come sei messo Allora ti manca un sacco di fuel E un po' di logs Va bene Wood chips è al massimo Ecco perché si è bloccato Perché il wood chip è al massimo Allora sapete che faccio I soldi ci sta Uh Dove mi sono andato a bloccare Ok qua I soldi ci stanno ragazzi I soldi ci stanno tantissimo Io una paletta Una paletta Ma la posso pure comprare Scusa Qui c'ho questa pala Che mi prende 6.000 C'ho i csz E csz quanto prendono? Sempre di meno 4.000 4.000 3.500 Magari è più realistico Prenderei questo New Holland Questa è una mod Ok 165.000 Prendiamo questo New Holland Ok Trovate questo New Holland Se non sbaglio nel mod hub Adesso non mi ricordo bene bene Dov'è che lo trovate Ma lo trovate E in più prendo questo Questa benna qui No Aspetta E la benna da insilato Mi può prendere Il wood chips Wood chips Com'è il simbolo del wood chips? Non credo proprio che sia questo Penso che il wood chips sia questo No non me lo prendeva Ok Prendiamo questa benna qui Ok E andiamo a vedere Dove me l'ha messa Me l'avrà messa sicuramente al negozio Eccola Allora è un po' giallina Devo essere onesto È un po' giallina Scusi È un po' giallina Lei E vabbè È un po' giallina La signora qui La benna Però Però È carina Dai Può starci Può starci Non l'abbiamo mai vista Guardiamola dall'interno 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 Non è male Se non sbaglio È prodotto direttamente Dalla Jans Questa Questa mod Ci può stare Ci può stare Le luci Ok Le luci ce l'hai I lampeggianti C'ha pure il lampeggianti Ragazzi Che volete di più Dopo che c'ha pure il lampeggiante Allora Andiamo a teletrasportarlo Qui alla Cherie Ok Non so perché L'hanno chiamata Cherie Perché comunque Sarà francese Non lo so Comunque Ok Adesso ho scoperto Anche un'altra cosa Che dobbiamo fare Vediamo quei due cosini Là che sono più inutili Che altro Uno Già I nastri proprio La novità del gioco Mai usati i nastri Cioè L'avrò usati forse Un paio di volte Ma Mamma mia Che disperazione Con i nastri Che disperazione è Allora Andiamo fin qua E poi Fammi prendere questo Quindi Carichiamoci un po' Eh lo so Volevo fare altre cose Purtroppo Lo vedi qua 6000 Subito Così di un colpo Tac E glielo buttiamo qui dentro Eh purtroppo è da fare così È da fare Lo vede qua Sentite che è ripartito Sentite che è ripartito Eh purtroppo prima non partiva Perché Si era bloccato C'era troppo food chips Io sto food chips Non so veramente cosa farci Qualcosa la troverò sicuramente da fare Eh E comunque Che scherziamo Non so cosa fare con food chips Comunque si carica Che è una bellezza Basta solo arrivarci là Ed è fantastico È un po' difficile da manovrare Io come sempre Le Le Come si chiamano qui I mezzi con lo snodo centrale Io non li concepisco Nel gioco è Perché in realtà sono più facili Secondo me da guidare Nel gioco però ti fanno esaurire Non poco Quindi prendimelo un altro pochino Perfetto Eh Credo di averlo svuotato A sufficienza Eh Devo trovare un altro sistema Per questo food chips Mi sa che questo food chips Lo andremo a vendere Di volta in volta Perché ne produce veramente tanto E non ne consuma così tanto È quello che è il mio Il mio problema Cioè io ne faccio Più di quello Cioè Faccio più food chips Che altro Vado solo col food chips qua Ok Quindi qua abbiamo sbloccato Ho comprato un mezzo Per fare un'operazione Semplicissima Va bene Va bene Quindi Scarica questo qui Non ce ne va più Vedete qua Non ce ne va più Io food chips Ne ho veramente tantissimo Allora lui è ripartito Sapete che vi dico Che ho visto Che ci mancherebbe Un alberello Allora Prendiamo un alberello Qua c'è un fuoco Ok Questo non è da mod ragazzi È già inserito così Dentro al gioco Allora io devo vedere però Che da questa parte Se non sbaglio Dov'è che Ah qua avete No non è questo È questo Tutti questi punti qua Sono piantati Proprio per essere tagliati Vedete qua Sono proprio delle zone Che ti fanno di un colore diverso Proprio per essere poi Per essere poi Fatte Utilizzate Però sono troppo lontane Queste troppo lontane Vorrei una più vicino Probabilmente utilizzerò La modalità muscoli Eh ragazzi Utilizzerò la modalità Modalità muscoli Perché insomma Allora Io ce l'ho una sega Non c'è manco una sega Cioè non c'è una motosega Ma che poveraccio sono In questo gioco Allora Carrello Motoseglie Faccio così Chiudo gli occhi Muovo il mouse Vediamo dove si è fermato Ok si è fermato sulla stile Compriamo questo Eh lo so ragazzi L'ho presa così a fortuna Una vale l'altra Allora qui tagliare l'albero Intanto se non tolgo la super velocità Ce la farò mai Tagliare l'albero È una delle più cose Più complicate Che c'è nel gioco Quindi Segamelo così in due Qualcuno mi aveva detto Un'altra volta Ma la volta che avevi La Come si chiama lì La Ok cadi 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 Una volta che avevi la Ok è caduto sulla casa Con tanti punti dove poteva cadere È caduto sulla casa Una volta che avevi la La scorpion king Dovevi tagliare più alberi possibili Vero vero Non ci ho pensato Guardate qui che bella la moneta muscoli Lo prendo Lo trascino Ok Venga con me Allora Fammi un attimo ripulire Che qua Ti cespuglietti mi danno solo fastidio Ok Credo che questi cespuglietti Siano solo fastidiosi Lo so che un po' Ne risente il salvataggio Però Ragazzi Che caspita La moneta muscoli è comodissima Dovrei fare tanti di quei viaggetti Che è inutile sia per me Che per voi Quindi preferisco Ok Com'è che non me lo fa prendere Mi tocca da qualche pa È troppo lungo forse Allora tagliamolo in due va Tagliamolo in due Così Lo porto direttamente Ragazzi È un'utile perdita Perdita di tempo Cioè fare Avanti indietro O prendere la scorpion king Potrei anche prendere la scorpion king Ragazzi I soldi ci stanno Niente me lo vieta Però Dai Faccio comodo comodo così Com'è che non me lo fa pigliare Ok l'ho preso Lo vedi qua Se poi tu lo prendi Oh Dove si è incastrato Scusi Non si incastri Può evitare di incastrarsi Lei Dov'è che si sta incastrando Ok Allora sapete che faccio Lo prendo E lo lancio Ok lo prendo e lo lancio Perché è più comodo Prendere e lanciare No devo lanciarlo dall'altra parte però Prendere e Lanciare Ok Se l'è preso Vedete qua È comodissima La modalità muscoli Soprattutto per uno che è come me Che è sfaticato come me È scomodissimo Qui quanto siamo messi 71% Ok Andiamo a prendere anche l'altro Ma Credo che l'altro poi Non se lo prenderà Perché è troppo grosso Però quando poi gli serve Se lo può prendere Cioè io lo lascio qui Poi te lo fai Te la vedi tu Te la vedi Quindi prendiamo questo Ok È difficile con la modalità muscoli Perché le cose Ah perché mi urta di là Ecco qual è il problema Se ti urta qualcosa È sempre un casino E qua urta sempre qualcosa Che caspita Stai urtando Non riesco a capirlo Ok Sapete che faccio Lo prendo e volo No non vola Non vola Non vola bene E vai E vai No non riesco a farlo Vabbè lasciamolo qui Tanto siamo pieni Quindi il board pallets Rimettiamo Z A velocità 3 Io con la velocità 3 Mi trovo benissimo Allora questi qua Stanno di nuovo riproducendo A quanto si è messi Wood chips Già 4% Abbiamo 34% di pallets Va bene Va bene Questo qui forse Ha bisogno di qualcosa Eh ragazzi Questo non c'ha più board pallets E a me i pallets Servono tantissimo Io non ho Allora fammi vedere di qua E questo invece Che stai facendo Questo penso che ancora Stia producendo Dove ho schermino Questo gli manca E board pallets Allora il board pallets Devo farne di più ragazzi Devo fare di più Ne produce veramente poco Sto coso È un problema È un problema Però faccio una cosa Mi fermo qui Ah questo Ah questo è un pallets Allora No questo è un board pallets Vero Adesso con la moneta muscoli Posso fare quello che voglio Non so veramente come fare Allora sicuramente Mi farò un viaggetto Con il camion Da solo Perché comunque Non ha Anzi no Andiamo a scaricare un attimo Questa cosa qui 9 F11 E poi andiamo qui sopra Cioè io Io non ve li Potrei fare pure le cose Tutte realistiche Iper realistiche Però poi ve le devo tagliare Quindi Cioè Non ha senso per me Spendere Spendere un sacco di tempo Per fare delle cose Che poi neanche si dovrebbero vedere Cioè che motivo c'ho Allora prefisco fare cose Un po' più Più semplici Magari Ma che si possono vedere Quindi che poi Ce le possiamo gustare Allora andiamo di qua Che dobbiamo andare a scaricare Stegia soli Che sembrano pochi E sono pochi infatti Però è sempre qualcosa Qualcosa di utile Allora andiamo fin qua Piano 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 Che qui È un po' difficilotto Entrarci Ok fermati Scarica Allora come vi ho fatto vedere Già da prima Qui c'è lo schermino Ok più o meno Da queste parti Eccolo eccole qui Ehm Vabbè Non so perché lo schermino è intrasparente Allora c'è 5% di sunflower E 42% di acqua Va bene E mi ha prodotto 35% di compost Mai lo butteremo Ehm Il pallet will Che cos'è sto pallet will Penso sia l'olio di semi Che poi dovremmo prendere E vendere Va bene va bene Questo c'è un segnale Anzi con il compost Questo compost qua Devo vedere se lo posso mettere Ehm Sapete dove Fatemi andare un attimo più veloce Qui sotto Allora non volevo No Non sono qui sotto Le serre Le serre Le serre me le ricordavo Da queste parti Questo peraltro La prima volta che lo vedo Che è sto coso Mi scusi Mi scusi Ma lei Che cos'è Che cos'è sto coso Se tu gli metti onion Ti fa Ah devo fare le cipolle Ok facciamo le cipolle Chi l'aveva mai visto sto coso C'è la prima volta che lo vedo Allora qui ci sono le serre Le serre volevano Che io le serre non me le ricordo mai Allora vogliono Pallet Feed E water Feed non so veramente che cos'è Ogni volta me lo dimentico Cos'è sto feed Va bene Allora finisiamo questa puntata Se il video vi è piaciuto Vi ricordo di lasciare un commento Mi piace Di iscrivervi al canale Se ancora non siete iscritti Di condividere il video se potete Noi ci vediamo nei prossimi episodi Ciao Ciao